Sono iniziati questa mattina i lavori di sistemazione della spiaggia della Marina presso il porto di Agropoli. I mezzi sono all'opera per liberare la renile della Posidonia spiaggiata in grosse quantità. Nelle prossime ore gli interventi partiranno anche sulla renile adiacente via Kennedy, Lido Azzurro. Nel giro di pochi giorni le spiagge in questione torneranno fruibili, così come le altre presenti ad Agropoli, sulle quali la pulizia viene effettuata a ritmi regolari, dal mese di febbraio. Sono iniziate le operazioni per sistemare le spiagge interessate da un notevole spiaggiamento di Posidonia, affermano il sindaco Adamo Coppola e l'assessore al porto Edemagno, nonché vice sindaco Eugenio Benevento. Ricordiamo che la Posidonia è un elemento chiave per la conservazione degli ecosistemi del mar Mediterraneo e indice di salubrità del mare, mai più preferiscono spiagge libere dalla stessa. Si procederà con lo stoccaggio in loco, non essendo intervenuta al momento alcuna normativa che permette di smaltire la Posidonia a costi abbordabili. Questo è quanto fanno sapere da Palazzo di Città, ma a quanto pare la situazione attuale delle due spiagge storiche della città è catastrofica. Proprio i lavori di queste ultime ore che stanno interessando la spiaggia della Marina hanno portato alla realizzazione di una maxi di scarica a cielo aperto, in uno dei posti più belli di Agropoli, arrecando notevoli disagi anche al proprietario della struttura ricettiva presente sulla spiaggia. Non è delle migliori la situazione in via Kennedy, presso Lido Azzurro, dove pare si stia creando una seconda montagna della vergogna.